Ed eccoci qui alla primissima giornata del Campus Crystal Nails 2024 in versione XXL, quindi con quasi 60 partecipanti e 17 master a loro disposizione. Oggi prima giornata, giornata dedicata completamente alla nail art e in cattedra abbiamo visto la nostra Ursula Sadko, Ketty Mangraviti e special guest, perché ha ripreso un corso ideato da Ambra Turkey, la nostra Valentina Palazzini con Cartoon. Venite con me che vi porto a vedere come è andata la giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.